ok ragazze ho mescolato tutto con le mani proprio con le mani allora andiamo a mettere l'olio ok perfetto ragazze a questo punto non mi rimane che metterle al forno e aspettare che si finiscano di cuocere e poi o anche prima perché poi devo farmi doccia shampoo e devo fare queste cose prima che appunto prima di farmi lo shampoo perché se io mi faccio lo shampoo e poi cucino apro e chiudo il forno non so voi ma io mi posso di nuovo andare a lavare i capelli perché mi diventano ricci l'umidità me li fa diventare crespi insomma quindi praticamente shampoo e poi devo stare in una specie di vetrina no scherzo naturalmente non devo avere a che fare con vapori di pentole con vapori di forno a proposito di vapori di pentole qui c'è l'insalata russa l'ho scolata e lo sapete io ve lo ripeto anche se sicuramente lo sapete quando dovete fare l'insalata russa gli ingredienti devono essere proprio asciutti 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 altrimenti la maionese si annacqua e qua ci sono le mie meravigliose lenticchie sono già pronte perfetto ragazze allora continuo ragazze in voltini pronti li ho usciti li avrei fatti stare ancora ma siccome questa sera si devono scaldare e saranno altri cinque minuti e quindi va bene così poi sapeste ragazze l'odore che c'è perché questo miscuglio di odori di aromi cipolla io fanno un profumo che non vi immaginate allora ho messo le patate già da un cinque minuti ora tranquillamente loro si cucinano da sole e quando appunto sono pronte le usciamo non lasciate mai i cibi al forno anche spento spento soprattutto perché poi le cose si seccano quindi quando le cose sono cotte assolutamente uscirle dal forno ragazze io chiudo questa prima parte di vlog ve la carico ma oggi ce ne saranno tantissimi perché vi voglio fare un get ready with me finalmente e poi perché poi stasera e visto che lo passeremo a casa farò qualche altro video quindi intanto prendetevi questo